Ciao amici! Negli ultimi mesi in moltissimi e soprattutto moltissime amiche mi avete chiesto di condividere i miei segreti per mantenere il viso sempre fresco e giovane nonostante l'età e oggi ho un annuncio speciale. Per rispondere a questa esigenza sto preparando un videocorso con le mie strategie naturali al 100% e davvero efficaci. Vedete uno dei problemi più grandi di chi vuole mantenere il viso sempre giovane e fresco è non avere le giuste strategie risolutive che funzionano davvero. I trattamenti naturali non riescono a correggere del tutto i segni del tempo, la chirurgia è invasiva, è anche rischiosa, non sai come ne esci, i nuovi mostri magari. Le creme anti-age non funzionano del tutto per un motivo molto preciso che spiego nel mio videocorso. Io ho studiato bene la faccenda per oltre 10 anni dopo aver compiuto i miei primi 40 anni e ho messo a punto una strategia naturale al 100% che funziona veramente. Prima l'ho sperimentata su di me e adesso voglio aiutare tutte le persone che mi seguono e mi chiedono Simona qual è la migliore strategia anti-age, quella che funziona veramente? Ma oggi con questo video sono io che vi chiedo di aiutarmi ad aiutarvi, scusate il gioco di parole. Se potete dedicarmi due o tre minuti del vostro tempo per rispondere a un semplice questionario sulla cosa che vi preoccupa di più sull'aspetto del viso con il passare del tempo, io vi prometto che il mio videocorso sarà estremamente dettagliato. Il feedback di ognuno di voi mi sarà utilissimo per realizzare un videocorso che soddisfi tutte le esigenze per essere sempre più soddisfatte del vostro aspetto. Anzi, più passa il tempo e più il viso diventa bello tonico. Bastano solo pochi minuti per rispondere al mio quiz. Tutto quello che dovete fare adesso è cliccare sul link del questionario che metto nei commenti, in descrizione, dappertutto. Lo trovate. Bene, vi ringrazio tanto per il vostro aiuto, davvero significa moltissimo per me. Dopo il quiz vi avviserò appena sarà pronto il videocorso. Sono sicura che ne sarete entusiasti perché lo sono anch'io. Nel frattempo restate connessi, sempre più trendy e sani. Un abbraccio a tutti, ciao!